Ciao ragazze, benvenute sul canale e benvenute a questo nuovo video. Questo è il mio secondo ordine sul sito Beauty Space Nails. Mi sono trovata benissimo con il primo ordine, quindi ho deciso di riordinare da loro. Come sapete è un sito internet, ma anche un negozio fisico che potete trovare nella provincia di Catania, se non sbaglio, e in più è un rivernitore anche su ebay, quindi potrete trovarlo anche su ebay. Che cosa vende? Vende tutto quello che riguarda la ricostruzione unghie in gel o in acrilico, ma anche tutto quello che riguarda la sfera estetica, quindi make up, pulizie del viso, depilazione, eccetera. Che cosa ho ordinato in questo ordine? Per prima cosa ho ordinato un barattolo da 400 ml di cera. Questa è adatta per lo scaldacera, quindi alla depilazione con la spatola. Io acquisto sempre la tipologia al titanio, perché è quella più delicata e quindi adatta sia per pelli sensibili che per pelli secche o molto secche. Mi trovo bene con questa tipologia e quando l'ho trovata 3,90€ ho voluto approfittarne e acquistarne una appunto per provarla. Se mi troverò bene sicuramente riacquisterò altre cere di questo tipo. Passando alla ricostruzione, ho acquistato due set di lime. Il primo set è ancora imballato perché non l'ho ancora utilizzata nessuna ed è un set da 10 lime dritte squadre zebrate. Sono una grana di 120-180 e queste qua sono costate 4,50€ 10 lime. Un altro set molto conveniente che ho acquistato è stato questo qua, che come vedete è già aperto perché ne ho utilizzata una. Eccola qua. Anche questo è un set di 10 lime dritte bianche con grana 100-180 e queste le ho pagate un po' meno perché le ho pagate 3,70€. Entrambi i set sono molto molto convenienti perché pagate meno di 1€ a lima e quindi ho voluto approfittarne. Per 1€ l'uno ho voluto comprare anche due buffer che sono due cobetti normalissimi bianchi. E sempre per quanto riguarda la ricostruzione ho voluto comprare due le chiama ruote, espositori e unghie da 18 tip l'una. Era un set da 2 e l'ho pagato 1,80€ quindi meno di 1€ l'uno. Come vedete una l'ho già iniziata ad utilizzare mettendo tutti i miei semi permanenti di Beauty Space Nails. Vi faccio vedere i quattro colori che ho già sbocciato e sono quelli che ho acquistato in questo ordine e il numero 01 Lulabi, eccolo qua, l'ho pagato 5,94€ e sono 15ml, eccolo qua. Come vedete in ogni confezione si trova il numerino sul tappino, almeno per questa linea di semi permanente ed è appunto questo colore qua, eccolo qua. Spero riusciatelo a vederlo. Comunque è un rosa Big Bubble che mi piace veramente moltissimo. Un altro colore che ho voluto prendere, che costa un pochettino di più, è il numero 1034 ed è il verde sberaldo. Come vedete non ha il numero sul tappino ma ha solo la righettina con il nome verde smeraldo e il numero. Questo l'ho pagato 6,94€ ed è un verde molto molto bello. Io avevo solo il verde glitter quindi ho voluto comprare un altro verde ed è appunto questo qua. Molto molto carino. Gli altri due che vedete vicino, eccoli qua, non sono da 15ml ma sono da 12ml e sono due blu. Uno è lo 08 Neon Blu, che come vedete hanno un packaging quadrato e non rotondo e invece l'altro è il 78 Night Blu. Uno è un blu neon molto acceso, l'altro è un blu molto molto scuro che sembra quasi nero, infatti è quello che ho sulle mie unghie in questo momento e come vedete è molto 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 scuro. Però alla luce del sole è molto molto bello e si vede che comunque è un blu. e questi qua sono da 12ml e li ho pagati 5,90€. Ve li faccio vedere sulla rotellina e sono appunto questo blu qua molto molto acceso e questo quasi nero ma è un blu notte, molto molto carino. Infine ho acquistato questi due scovolini di ricambio per la fresa. Ho comprato due set. Uno è questo qua ed è con grana media 80 e 50 pezzi li ho pagati solo 4,60€, mentre l'altro sempre allo stesso prezzo ha una grana fine 120 e sono appunto 50 e come vi ho detto li ho pagati 4,60€. Quindi un ottimo ottimo affare. Infine mi ha mandato anche due omaggini, sono stati veramente molto molto carini e mi hanno mandato appunto questi due omaggini che sono appunto delle perline per nail art. Uno è un oro più giallo e l'altro invece un oro molto molto scuro, molto intenso. Eccoli qua. Non so quanto costino però comunque come vedete c'è l'etichetta con scritto omaggio Beauty Space Nails. Mi ha fatto veramente molto molto piacere e penso che prossimamente riacquisterò di nuovo da questo sito. Vi ricordo che se superate i 40€ di spesa le spedizioni sono gratuite. Fatemi sapere se anche voi avete ordinato da questo sito e come vi siete trovati e se mi consigliate qualcosa. Io vi mando un mega bacione, corro a girare qualche altro video visto che ho un po' di tempo e ci vediamo alla prossima. Ciao!